attenzione alla dieta per non esagerare a pranzo hai deciso di mangiare solo il primo pasta e fagioli con le cotiche o si non usavano niente oppure più chickel pennetta con le zucchine e la pancetta niente più basta il primo e aggiungi un po di frutta due cachi e basta poi alle cinque fai uno spuntino lo consiglia proprio il dietologo un panino con la bresaola oppure due melanzane sott'olio che bisogna avere sempre sotto mano oppure uno spuntino tipico cioè tre o quattro tarallanzoni e pepe ma a cena solo il secondo salsicce e friariel oppure tracchiulelle e maial con un po di contorno perché a cena ci vuole il contorno peperoni a olive chiappariel molignana a fungetiel il dolce no è troppo tutt'al più prima di andare a letto dopo il film che ti viene il languorino quel pacchetto di biscotti che tieni sempre pronto a portata di mano attenzione alla dieta mangia qualcosa di sostanza non ti trascurare che stai debole